È molto figo, molto figo perché c'è molto spazio ai giovani, questa è una cosa molto importante secondo me ed è bello anche comunicare, quindi credo che questa sia la cosa più importante. Beh sicuramente comunicare ai giovani è anche un po' una responsabilità, perché devi comunque dare in qualche modo il giusto esempio ma la cosa più importante secondo me per noi giovani è quella di cercare veramente di inseguire e lottare per i nostri sogni perché sono quelli che in qualche modo quando ci svegliamo la mattina ci danno un senso tutta la giornata. Credo abbiano una responsabilità comunque molto forte perché comunque per fortuna viviamo in un periodo dove ci sono tante contaminazioni però è sempre bello anche buttare un po' l'occhio al passato e riscoprire un po' la tradizione italiana che è quella della musica italiana quindi credo abbiano una responsabilità importante e per me hanno avuto soprattutto un'influenza importante. Mi aspetto tanta carica, tanta adrenalina, io sono molto carico, non vedo l'ora di sedire sul palco e mi aspetto una bella risposta dal pubblico dai. Spero di far arrivare la mia emozione alle persone e di conseguenza emozionare la gente e spero di portare con me un'altra bellissima esperienza da aggiungere un po' al mio bagaglio e poi tra l'altro sono molto legato a questa regione, a queste città quindi già venire qui per me è molto importante e quindi spero insomma di portare a casa una bellissima esperienza. La passione, avere tanta passione e tanta determinazione ci porta a fare questo lavoro e a lottare come dicevo prima ogni giorno. Grazie. Grazie.